Raffaello Tonon implacabile su Ginevra Lamborghini, cacciata dal grande fratello Vip7 per una frase da brividi su Marco Bellavia, ti meriti di essere bullizzato. Il tema è stato trattato anche a Mattino 5 dove Tonon si è scatenato non facendo alcuno sconto all'ereditiera e anzi individuando alcuni atteggiamenti controversi assunti dalla giovane, riassumendo a grandi linee. La Lamborghini, assieme ad altri Jeffini, pronuncia frasi orribili su Bellavia, Signorini e gli autori del reality la squalificano, lei ha uno psicodramma ma ormai la frittata è stata fatta. In questa storia, però, ci sono delle sfumature da raccontare, e su cui Tonon, attento scrutatore delle dinamiche della casa più spiata d'Italia, ha smontato Ginevra, un pianto con poche lacrime. Qui ci sono due problemi. Da questa donna, che non ha avuto un pensiero sul danno creato a Bellavia, ho capito che ha paura del giudizio esterno, ha paura di non poter più stare dentro questa scatola. Questa è la verità. Se la gente mi critica, se ho fatto una figura esecrabile, cosa ne sarà del mio futuro sociale e lavorativo? Raffaello a questo punto si è concentrato su un altro nodo cruciale della vicenda. Ginevra, dopo essere stata criticata in diretta da Signorini, ha raccontato che Bellavia avrebbe cercato dei contatti fisici con lei. Subito ha messo le mani avanti, dicendo di non essere in alcun modo stata palpeggiata, ma di aver sentito il suo spazio vitale invaso. Insomma, per farla breve, Bellavia non ha fatto nulla di nulla. Infatti il resoconto della giovane, è apparso farraginoso e sconclusionato. Su tale punto e ha ragione, Tonon ha voluto piazzare un altro a fondo. Secondo. Marco le ha dato un pizzicottino bonariamente, altrimenti il grande fratello sarebbe intervenuto subito ai danni di Bellavia. Non può essere paragonato ad un'invasione di spazio, quando abbiamo le ragazzine di 15 anni alle 6 del pomeriggio violentate dai mostri. Io lo trovo c'è anche un altro retroscena inedito relativo alla parabola della Lamborghini da mettere in evidenza. Dopo la diretta a tratti drammatica della puntata del GF VIP di lunedì 3 ottobre, Antonella Fiordelisi e Cristina Quaranta, a colloquio, ripensando alle scuse tardive di Ginevra, hanno ricordato che l'ereditiera ha iniziato a scusarsi solo dopo che ha sentito gli insulti fuori dalla casa. Insulti arrivati in seguito all'abbandono di Bellavia.